Era uscita di casa per una semplice passeggiata che stava per trasformarsi in un incubo per fortuna con un finale a lieto fine. Nella notte di lunedì una donna all'ottavo mese di gravidanza si era diretta verso il parco del Foro Boario per fare due passi. A un certo punto ha accusato un malore al ventre tanto che il suo passo si era fatto lento e affaticato. A quel punto, capendo il pericolo per la propria salute, la donna aveva alzato il braccio per chiedere aiuto a qualcuno. In quel momento però il parco era completamente deserto e anche il suo cellulare aveva ceduto completamente scarico, dunque non c'era modo di allertare neanche i soccorsi. Così la giovane si era seduta in una panchina con la speranza che passasse qualcuno. Poi all'improvviso si sono materializzati alcuni agenti della squadra volante di polizia che stavano perlustrando il territorio. Hanno subito soccorso la donna allertando il 118 e avvertendo il marito che l'ha raggiunta poco dopo in ospedale. Grazie. Grazie.